Ci sarebbero anche quattro scuole attualmente adibite ad alloggio per le famiglie in emergenza abitativa, tra i 27 ex plessi che il comune con manifestazione di interesse firmata dal Dipartimento Patrimonio De Manio e Spropiazione vorrebbe affidare in gestione ai privati. Alcune di esse verrebbero addirittura contrassegnate come immobili occupati abusivamente, una definizione che ha fatto letteralmente saltare dalla sedia i vertici dell'Unione Inquilini che in una nota ricordano come gli immobili in questione siano dotati di regolare i contratti di comodato d'uso e come allo stato attuale non risultino provvedimenti che annullino questi contratti o ritirino le rispettive delibere. Non ci spieghiamo come tale manifestazione di interesse spiegano i vertici del sindacato che tutela gli interessi degli inquilini si possa conciliare col delbare d'accordo stipulato il 16 ottobre 2018 a seguito dell'iniziativa Stratti Zero tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione comunale. All'interno di quell'incontro si era profilato tutt'altro futuro per queste strutture attualmente utilizzate per ospitare temporaneamente famiglie in grave disagio abitativo. L'amministrazione diede allora ai 30 nuclei familiari garanzie di permanenza in quelle strutture salvo gli si avanzassero soluzioni alternative concrete e dignitose. Al tal proposito, continua la nota, si programmò in tempi brevi un successivo incontro in cui discutere sulla realizzazione di percorsi di recupero e autorecupero delle strutture abbandonate al fine di potenziare l'offerta di alloggi pubblici. Chiediamo, conclude la nota, che si ritirino dall'elenco allegato all'avviso le quattro strutture concomodati d'uso nell'attesa di soluzioni definitive e chiediamo soprattutto un immediato incontro chiarificatore ormai non più differibile all'amministrazione comunale.